Chi ha più bisogno di imparare? Il cane cucciolo o la persona? Prendere un cane cucciolo sicuramente è un momento di gioia, desiderato, preferibilmente voluto, ma talvolta c'è più il desiderio che forse si unisce anche al volerlo. In ogni caso, indipendentemente da questo, quando le persone hanno un cucciolo, la domanda si pone chi ha più bisogno di imparare il cane cucciolo o la persona? Probabilmente tutte e due, nella mia esperienza, forse più la persona. È difficile comunque stabilire una percentuale, ma in ogni caso entrambi hanno bisogno di imparare. Le persone spesso chiedono che gli sia insegnato i comandi come farsi obbedire dal cane, a stare fermo, a venire, eccetera. Tuttavia, un cane cucciolo, ma comunque un cane, sa sedersi anche da solo, non è che ha bisogno che qualcuno glielo insegni, ma dietro a queste richieste delle persone spesso si denota un'insicurezza e quindi il bisogno di sicurezza, di essere ascoltati dal proprio cane per poterlo gestire meglio e non avere problemi. Le persone capita che facciano un po' confusione tra obbedienza ed educazione, che non sono la stessa cosa, perché obbedienza, uno deve obbedire e quindi si tratta che deve eseguire un compito, un comando e quindi va quasi più su un'imposizione, mentre l'educazione mira a tirare fuori il meglio da quell'individuo, perché possa crescere sano, forte e sviluppare tutte le sue qualità, le sue potenzialità. È una crescita che parte da dentro, a livello interiore e che l'educazione va anche a colmare quelle che sono le sue eventuali carenze. Quindi è importante capire questo, perché in natura nessun lupo insegna il seduto terra, resta o piede ad un altro cucciolo, non fa parte dei comportamenti tipici della specie e non ne hanno bisogno, quindi se non lo usano in natura vuol dire che non è così fondamentale per il cane. Tuttavia quando la persona prende anche il cane si entra in una relazione e in questa relazione, avendo la persona a che fare con un essere vivente di una diversa specie, è importante che sia sana, perché in questa relazione emergerà anche come la persona reagisce al cucciolo, sia quando fa delle cose che gli piace, che quando fa quelle che non gli piace. Ed è in quest'ultime che poi spesso emergono i problemi e c'è anche forse più da lavorare per la persona e quindi queste reazioni daranno delle indicazioni, delle indicazioni importanti per la persona che ha bisogno, probabilmente potrebbe avere bisogno di migliorare e magari anche farsi aiutare. Nella relazione con il cane è importante che la relazione sia sana e più che l'ubbidienza c'è bisogno di capire quali sono i bisogni interiori del cane cucciolo, quali sono le sue qualità che vanno potenziate le sue motivazioni, le sue attitudini ed anche comprendere dove ci siano delle carenze che vanno possibilmente colmate o migliorate. Va compreso lo stato emotivo del cane cucciolo e va fatto fare delle sane esperienze in modo che ci sia una relazione funzionale. Più che obbedienza, che si basa sull'imposizione, c'è bisogno di acquisire delle conoscenze affinché il proprietario, la persona, la proprietaria diventi una base sicura, una guida sicura per il proprio cane e per se stessa e che inneschi meccanismi di risposta sia al richiamo o a quello che la persona desidera al cane basandosi sulla collaborazione. Quindi questo ti esprimo quella che è la mia opinione e il mio modo di vedere il cane cucciolo e se vuoi puoi contattarmi se ti fa piacere e conoscere i percorsi adatti per il tuo cucciolo come la consulenza cinofila comportamentale per cane cucciolo, l'educazione cinofila comportamentale emozionale sempre per cane cucciolo ed altre cose che potremo conoscere insieme. Sono Stefano Pesci, istruttore e doatore cinofilo comportamentale, specializzazione norvegese nella risoluzione dei problemi, nel benessere del cane, nel comportamento dei cani, socializzazione, cani cuccioli, segnali calmanti, stress eccetera e il datore del metodo Toggerar Dog. Il mio cane è Sharon, è un cane insegnante e potrà essere molto di aiuto anche per te e anche per il tuo cucciolo che potrebbe conoscere. Se ti fa piacere scrivimi dal mio sito www.istruttorecinofilo.it per qualsiasi domanda o necessità. Ciao!